C'è chi ha ironizzato, a vedere le seguenti immagini, divenute virali su diversi forum. Beh, evidentemente si tratta di cibo fresco, c'è chi ha scritto. Ma il video è oggettivamente impressionante. È possibile vedere un pezzo di carne, di rana, con ogni probabilità, muoversi per abbandonare il piatto dove si trova. Ma la spiegazione è presto detta. Si tratta di una reazione al sale che causa le contrazioni della carne. Succede anche a polipi e calamari quando, a contatto con la salsa di soia, hanno i loro tentacoli che si muovono, anche se non legati al corpo.